Gloria, ultima puntata, Gloria viene smascherata e lasciata all'altare. Le cose per Gloria sembrano andare meglio che mai. La donna riceve nuove proposte lavorative molto interessanti e sembra abituarsi all'idea di dover recitare la parte della malata per ottenere ciò che desidera. Intanto anche la relazione con Alex sembra andare a gonfie vele. L'uomo si dichiara innamoratissimo e chiede a Gloria di sposarlo una seconda volta. La Grandi accetta con entusiasmo e la famiglia sembra essere riunita, quindi iniziano i preparativi per queste seconde nozze. Tutto però cambia quando, ad un passo dall'altare, Alex scopre che Gloria non è mai stata malata. La Grandi prova a giustificarsi spiegando che è stata un'idea del suo agente che poi si è ingigantita troppo ma Alex non vuole sentire ragioni. Nonostante fosse tutto pronto, annulla il matrimonio e lascia per sempre Gloria. Lucilla e Gabriele vengono al corrente dell'intera situazione e decidono di sfruttarla. Quindi ricattano Gloria e Manlio, sia con ciò che sanno sia, nel caso di Lucilla, per i trascorsi che ci sono stati tra di loro. Tutti ormai sembrano aver scoperto tutto e manca poco al momento in cui la menzogna diventerà di dominio pubblico e la carriera di Gloria sarà finita. Nel frattempo la Grandi è disperata sia per questa situazione sia per aver perso il marito e, improvvisamente, scompare nel nulla. Tutti cercano di capire dove possa essere finita, ma Gloria è irraggiungibile e le cose diventano ancora più preoccupanti quando viene ritrovato un biglietto di addio per i parenti su una barca abbandonata. Tutti temono che l'attrice abbia commesso un gesto estremo, ma non è così e, alla fine, la situazione difficile finirà per unire tutti, anche dopo la menzogna. Voi che cosa ne pensate? Vi piace il finale di questa fiction e che cosa vi aspettate di vedere? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!